Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, finalmente il video è tanto atteso perché oggi andremo a vedere come impostare un bot in Trade Santa, me l'avete chiesto veramente in tantissimi, non è difficilissimo, non pensate chissà cosa si va a fare, andiamo a vedere proprio nella parte pratica come caricare dei soldi appunto su Binance e come dire a Trade Santa di investirli in tal modo, cioè in modo da attivare il bot, parliamoci chiaro. Prima di cominciare vi ricordo che in descrizione, nel primo commento trovate il link appunto per scaricare Trade Santa, oltre a quello ovviamente trovate tutti i link bonus delle piattaforme in cui investo, bla 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 e cose varie, ovviamente ragazzi dovete iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace ovviamente per supportare il video e adesso passiamo alla parte pratica, ovvero andiamo ad attivare questo bot in Trade Santa. Prima di cominciare vi mostro tutti i passaggi base, infatti qui ho Binance aperto e qua vi lascerò la schermata appunto perché cominciamo proprio da ricaricare il portafoglio Binance, perché come sapete Trade Santa è collegato al vostro portafoglio Binance, quindi per depositare fondi in Binance andiamo al portafoglio, facciamo deposita, lo sto facendo da cellulare perché è più facile, poi dopo ci spostiamo al PC per impostare il bot di Trade Santa. In questo caso depositeremo degli euro, farò l'accredito veloce, quindi ok, carta bancaria, dovrebbe essere istantanea, quindi ci arriveranno i soldi, non lo so, proviamo un 50-60 euro, ok, qui ci sono appunto i dati del mio conto, facciamo dai un cinquantino, sì dai, facciamo un 50 euro e facciamo partire l'accredito. Vediamo se va a buon fine, dovremmo trovarci appunto il... ok, mi chiede la conferma, perché lo sto facendo da posta di Evolution, ok, autorizza, perfetto, adesso dovremmo tornare in Binance e dovremmo avere l'accredito fatto appunto di 50 euro. In euro appunto li sto depositando, eh? Deposito riuscito, ok. Mi arriva anche il messaggio perché appunto c'è la conferma, notifica di poste pay e tutto, ok, adesso in euro abbiamo 86 euro, come vedete il portafoglio Binance è cresciuto. Ho aggiunto altri fondi per far vedere proprio dalla base come si parte, anche perché poi gli altri fondi che già c'erano sul portafoglio li utilizzo tutti quanti per far fare i movimenti appunto ai bot di TradeSanta, perché ce ne ho attivi più di 20, forse 30 bot attivi, ci apro quindi. Adesso ci spostiamo appunto su TradeSanta e vi faccio vedere come impostare il bot. Eccoci qua su TradeSanta, siamo entrati con il nostro account, ovviamente in alto a destra, là ci sta assegnando già tutti i movimenti. Abbiamo fatto un profitto di 67,28 dollari fino adesso, dovrebbe averci già accreditato gli altri soldi, vediamo da stamattina che profitto abbiamo fatto, perché ci dice quello giornaliero, pochi centesimi, pochi centesimi, 14 dollari. Va bene, non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo a creare questo bot. Ok, DCA bot, che è quello più semplice, perché appunto cosa va a fare questo DCA bot? Compra quando entriamo, appena abbassa un po' fa un altro acquisto, appena si rialza, boom, vai a vendere, quindi è quello molto semplice. Io ce ne attivo anche uno di questo qua, GridBots, che stava funzionando, oh dai, va bene così, va bene così. Io raga, cerco di fare sempre abbinamenti, vedete, Doge, Bitcoin, Ethereum, Euro, Dot, Euro, tranne Matic che c'è solo qui, poi il resto sono tutte monete diciamo abbastanza conosciute in pratica. Cerco di non andare troppo nel particolare, anche perché poi magari con il portafoglio Binance non riesco a venderli, comprarli, mentre queste sono più facili, sono quelle più conosciute. Mi tengo sempre su più facili. Quindi andiamo qua, crea bot, punto di accesso Binance, perché ovviamente è collegato al portafoglio Binance. Ok, una volta collegato, vabbè, la strategia per ora lasciamo questa, tanto è un esempio, poi vediamo. E raga, c'è un trucco particolare per capire quale, diciamo, abbinamento utilizzare. Vi faccio vedere in modo semplice. Ovviamente si può vedere anche dal sito, non è un problema, però se avete l'applicazione, andando in basso, nella top delle 24 ore, cioè sotto nella prima schermata, nella dashboard principale, scendete in basso, C'è la top 24 dei migliori abbinamenti, oggi ci dice che su Binance il migliore abbinamento è USDT Link. Quindi se adesso creeremo un bot di questo, ci funzionerà sicuramente. Questo è un piccolo trucco, magari, che potete utilizzare, magari se non sapete quali abbinamenti fare, potete fare tranquillamente uno di questo. Adesso facciamo un esempio tipo Dogecoin Euro. Questo ovviamente, vabbè, è il grafico, non voglio scendere troppo nei particolari, perché stiamo facendo un esempio. Il take profit di solito non lo metto altissimo, perché preferisco far funzionare più spesso il bot, piuttosto che poche volte magari guadagnarci di più, ovviamente, però preferisco guadagnarci di meno, però farlo funzionare più spesso. Giusto perché lo sto facendo come esperimento, quindi un 0,40. La percentuale del prossimo ordine, invece, la mettiamo a 0,60. Cioè, quando il secondo ordine lo farà, quando, appunto, c'è questa variante di percentuale. Qua, invece, il numero di ordini che andrà a fare ogni volta che ci sarà questo movimento. Io ne metto, facciamo due, dai, vediamo se ci riusciamo, con la cifra che ho depositato. Cioè, quindi farà due ordini ogni volta che... cioè, farà il primo ordine a 0,40 e il secondo ordine quando salirà di un altro 0,60. 11 euro per ogni volta che va a comprare, il numero massimo di cicli non lo metto perché lo facciamo illimitato fin quando... cioè, fermerò io il bot al limite, dai, facciamo così. E, appunto, 33 euro. Perché 33 euro? Perché, appunto, il primo ordine 11 euro. Cioè, 11 euro appena entriamo, 11 euro quando ci sarà il take profit a 0,40, 11 euro per l'altro ordine a 0,60. Quindi, è questo che dobbiamo capire. Il mio bilancio, appunto, è di 49 euro perché abbiamo depositato 50 euro poco fa. Due ordini, ok, sono 33 euro. Chiamiamo doge... ok, lasciamo così, salva e facciamo partire il bot. Cioè, ragazzi, non è difficilissimo. Credo di averlo fatto capire bene. Il bot adesso è partito, ecco qua, già ha fatto il primo e forse anche il secondo... No, il primo ciclo, ok, è partito e ha fatto pure il primo acquisto. Ok, sì, 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 il primo ordine è stato creato. Eccolo qua. Niente, ragazzi, penso che non c'è nulla di così complicatissimo. Ovviamente le basi, tipo queste cose qua, dobbiamo conoscere almeno le basi per capire di cosa stiamo andando a parlare. Ma poi per il resto ci pensa tutto lui. Io ovviamente ho l'impostazione che mi dice tutto... tutti i movimenti che stanno facendo tutti i bot mi arrivano qui su Telegram. Ecco qua, infatti proprio adesso mi è arrivata la notifica dei movimenti che stiamo andando a fare adesso. Non è... cioè, nel senso non è che mi interessa tantissimo, però almeno so che i movimenti stanno andando a fare. Ogni tanto gli do un'occhiata e vedo cosa stiamo comprando, cosa stiamo vendendo. Anche perché ho tanti bot, vi faccio vedere un attimo... Ecco qua, questi sono tutti i miei bot, ce ne ho 23 attivi. Eccoli qua. Come vedete c'è un'abbastanza, ne posso creare fino a... mi sembra a 99 perché ho l'account, tra virgolette, premium. Niente. Ah, a proposito c'è anche gli sconti estivi, cioè potete avere il 50% per un anno pagato. Il 50% se fate l'abbonamento annuale e in più un altro anno gratis. Quindi, cioè, approfittatene, se vedete che sta andando bene e ne vale la pena, potete tentare. Niente ragazzi, se avete qualsiasi domanda, come al solito, me lo fate sapere nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.